Ciao a tutti bambini dal Maestro Marco, oggi mercoledì 15 aprile, spero che abbiate passato una buona Pasqua e una buona Pasquetta, diversa dal solito perché a casa non si poteva andare da nessuna parte, ma spero che sia stata comunque una Pasqua serena e tranquilla con la vostra famiglia. Bene, ricominciamo con le lezioni a distanza e ripartiamo un attimo da geografia, cioè dal compito dell'altra settimana, sinistra e destra. Avete fatto sui vostri quaderni le impronte delle vostre mani destra e sinistra e avete scritto con quale mano utilizzate per scrivere e vi ho chiesto poi nella pagina seguente di fare un elenco delle persone della vostra famiglia che scrivono con la stessa vostra mano, se destra oppure sinistra. Bene, il compito continuiamo con questo elenco e vi chiedo di scrivere, scusate torno indietro, vi chiedo di continuare questo elenco ma mettendo i nomi dei vostri compagni. Esempio, se voi scrivete con la mano sinistra riscrivete di nuovo questa frase, io scrivo con la mano sinistra come e pensate, 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 scrivete i nomi dei vostri compagni, così è un modo anche per allenarvi e per ricordarvi come scrivevano e come scrivono ancora quale mano usano i vostri compagni. Sono sicuro che voi lo sapete, questo è un lavoro che dovete fare proprio voi, perché mamma e papà non sono, non erano e non sono in classe con voi e quindi no, non lo possono sapere. Provate a scriverne 4 o 5 e se non vi ricordate la, se scrivano con la mano destra o sinistra basta ricordarsi un attimo se usavano la mano, se usavano la matita rossa o la matita gialla. Quindi per fare questo compito nella pagina seguente, quindi nella pagina pulita, scrivete io scrivo con la mano destra oppure scrivete con la mano sinistra, dipende quale mano usate e poi provate a scrivere il nome di 4 o 5 i vostri compagni. Sono sicuro che ve lo ricordate perché quando facevate i distributori consegnavate personalmente a ogni bambino la matita gialla o la matita rossa, ok? Non dovete scrivere tutti i nomi, mi raccomando, 5 o 6, 2 o 3, 4 o 5, 5 o 6, come volete, quelli che vi ricordate va benissimo, ok? Molto bene, quindi questo è il compito di geografia, come vi ho detto ovviamente se scrivete con la destra scrivete, io scrivo con la mano destra e se scrivete con la mano sinistra come vi ho già spiegato. Passiamo a storia, quindi il compito di geografia questa settimana è molto molto veloce. Storia, abbiamo visto l'altra settimana il video della maestra scrivacchina ieri oggi domani e spero che vi siate allenati al gioco di ieri oggi domani con i giorni della settimana come proprio spiegato in questo video, ok? Non guardiamo il video perché l'abbiamo già visto, andiamo avanti e però guarderei insieme a voi questo video sempre della maestra scrivacchina che parla delle parti della giornata. Allora innanzitutto le parti della giornata sono 4, mattina, pomeriggio, sera e notte e andiamo a vedere cosa succede in queste parti della giornata. Adesso è un po' strano parlare di parti della giornata in queste giornate in cui sembrano tutte uguali perché voi stando a casa mattino pomeriggio sera sembrano tutte uguali ma c'è una cosa che cambia all'esterno sono sicuro che lo sapete già e ve ne sarete già accorti. Guardiamo il video insieme e lo commentiamo. Eccolo qua, mattina, pomeriggio, sera e notte che sono le quattro parti della giornata. Guardate le immagini come sono, ecco cosa cambia. Dietro le montagne questo potrebbe essere proprio il Monviso, è come se fosse il Monviso di Benevagenio, a chi si vede a Benevagenio. Il sole sorge, secondo me in queste mattine vi svegliate anche alle 10, è un po' tardi. Quando andavamo a scuola ci svegliavamo alle 7 per fare colazione e poi andare a scuola. Al pomeriggio il sole è molto più alto, dopo il pranzo e magari un riposino si fanno i compiti, si legge, si studia, si gioca. Chi può va fuori a giocare a pallone, magari un bel gelato, chi ce l'ha nel freezer magari perché non si può andare ad acquistarlo. Alla sera si cena, si lavano i denti per prepararsi e andare a dormire. Guardate la luna, quindi sono cambiate un po' di cose. Quindi cosa succede, cosa cambia? Si va a dormire come questo gufetto che ci si mette il pigiama e si va a dormire. Molto bene. buonanotte a tutti. Quali sono quindi le differenze? Le differenze le sapete benissimo, si capisce bene. Nelle parti della giornata cambia la posizione del sole. Al mattino sbucca da dietro le montagne, sbucca da cucù, sale, 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 sorge, si dice, c'è l'alba. Poi durante la giornata, quando finisce la mattina, quando il sole albeggia, il sole sale e si passa al pomeriggio, da mezzogiorno in poi, quindi dall'ora di pranzo in poi diciamo che è pomeriggio. Ma poi cosa succede? Il sole torna di nuovo giù, va a nascondersi, torna giù, 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 giù e tramonta. Tramontare vuol dire che scende, che non dico cade, perché non è che cade dietro le montagne, ma perché dove c'è il mare non ci sono le montagne, quindi semplicemente scende, fa via, per fare spazio alla luna. Di notte c'è la luna. Ok? Queste cose voi mi direte, ma lo sappiamo già, è certo che lo sapete già. Però è proprio importante sapere le quattro parti della giornata, e quindi mattina, pomeriggio, sera e notte. Cosa vi chiedo di fare? Sul quaderno di geografia, perché purtroppo il quaderno di storia non ce l'abbiamo, facciamo questo lavoro. Scrivete mercoledì 14 aprile 2020, o la data di quando fate il compito, come vi dico sempre, scrivendo le parti della giornata. E provate a disegnarmi, dividete il foglio in quattro, e in alto a sinistra mi disegnate la mattina, in alto a destra mi disegnate il pomeriggio, in basso a sinistra mi disegnate la sera, e in basso a destra mi disegnate la notte. Ok? Spero che sia chiaro, disegnate come riuscite, come potete, disegnate e colorate. Ok? E per quando io dico disegno intendo anche coloro. Questi due disegnini possono proprio aiutare per semplificare con le frecce, che cosa vuol dire? Alba e tramonto. Alba è quando il sole sale, sale su 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 nel cielo, e il tramonto è quando scende, quindi freccia su, alba, freccia giù, tramonto. E vi ho messo un video, giusto per farvi capire cosa si intende per alba. Ah, mannaggia, video non disponibile, non si può vedere. Non si può vedere. Beh, andate a cercarlo su YouTube, il video dell'alba. Ok? Quindi probabilmente anche questo, non so se riusciremo a vederlo. Anche questo, peccato. Beh, andate a cercarveli su alba e su YouTube. Alba e tramonto. Ci sono dei video bellissimi, e così potrete vedere come si sposta il sole. Ok? E, senza andare su YouTube, però potrei chiedervi questo. E voi, l'avete mai vista l'alba? E avete mai visto il tramonto? E allora, senza obbligare i genitori, e senza farmi mandare in al di pancia delle vostre mamme e papà, provate a chiedere, quando è possibile, ovviamente, quando avete tempo, quando magari mamma e papà non vanno a lavorare, o davvero, quando potete, di farvi aiutare da mamma e papà a vedere, vabbè, il tramonto secondo me si riesce a vedere. L'alba è un po' più difficile, perché bisogna svegliarsi presto, 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 presto. E, per esempio, io quando mi sveglio perché Franceschina, la mia bimba, vuole il lattino, e si sveglia e piange di notte perché, di notte, anzi, di mattina presto perché vuole il lattino, magari il sole sta per sorgere, per alveggiare. Vabbè, al di là di queste cose, vedete voi, sarebbe bello, con i vostri genitori, oppure pensare, se avete già visto l'alba, o il tramonto, quando magari siete andati al mare, o in montagna, o in qualche vacanza. Ok? Pensateci. E magari raccontatemelo poi, scrivetemelo sulle chat di Whisky. Ok? Molto bene. Questo, invece, passiamo al lavoro di musica, cornice arancione, parliamo di suoni e rumori. Non stiamo facendo scienze, eh, con la maestra Marilena, ma l'argomento è molto collegato. I suoni sono quelli che noi sentiamo e ascoltiamo, che il nostro orecchio ascolta in modo piacevole, e quindi, magari, tutti quei suoni prodotti dagli strumenti musicali. Invece, i rumori sono tutte quelle cose che possono dare fastidio alle orecchie, che ci viene proprio voglia di tapparle le orecchie, come il trapalo, come il volo dell'aereo, come l'anticurto, come le vibrazioni della cassa di una chitarra elettrica. Insomma, tantissimi i rumori del camion, o anche l'abbaiare di un cane potrebbe essere fastidioso. Insomma, suoni e rumori voi già li conoscete, perché con la maestra Marilena ne avete parlato. E quale senso si usa per ascoltare i suoni e i rumori? Appunto, per ascoltare, per sentire? Spero che mi abbiate risposto tutti. La risposta è udito. Con l'udito noi ascoltiamo i suoni, i rumori, e guardate cosa succede al nostro orecchio. Secondo me anche questo la maestra Mari ve l'ha già un po' raccontato. Questa definizione è un po' difficile da bambini grandi o delle medie. Ma voglio solo farvi vedere questo. Immaginatevi il suono che arriva nel vostro orecchio. Arriva in questo modo, in un modo dolce. Voi lo vedete così, arriva tranquillo, tranquillo, e fate proprio come questa bambina. Vi viene da dire, ah, che bello, che bel suono. Voglio proprio capire di cosa si tratta. Invece, quando ascoltate un rumore, la vibrazione del rumore arriva al vostro orecchio in questo modo. Si capisce già da questo scarabocchio quanto il rumore possa essere fastidioso. Ma voi con le orecchie non ascoltate solo il suono e il rumore, ma ascoltate anche il silenzio. Il silenzio, specialmente in questi giorni, si sente molto, eh. Sono sicuro che a casa vostra, dentro e fuori casa vostra, sentiate dei suoni e dei rumori che prima, con tutto il rumore delle macchine, con il frastuono della vita quotidiana, magari non sentivate. Ecco, silenzio si può fare in tanti modi. Stagno e olio ci dicono di fare così, eh. Anche noi a scuola magari tante volte ve lo dicevamo, e anche mamma e papà. Ma si può dire in diversi modi, come ci ricordano questi bambini. Ecco, questo bambino non si sta mettendo il dito del naso, eh. Mi raccomando. Sta dicendo silenzio. In tanti modi si può dire zitto. Come anche in musica. Vi ricordate che abbiamo fatto i giochi del silenzio e mettevo sui tavoli la zetta. Ok. Si può scrivere anche in questo modo. Concludiamo, appunto, con questo compito. Il compito è di ascoltare i suoni e i rumori di casa tua, dentro e fuori. Ma di ascoltare anche in silenzio, fermarsi proprio un attimo e in silenzio ad ascoltare i rumori, i suoni intorno. E poi, come dal saluto che vi ho fatto, nell'audio di prima, divertitevi a ballare e cantare questa baby dance. Ok? I suoni delle cose divertentissime. Ciao, ciao! Ciao!